Scusa, 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 e tu sei di produzione? No, sono l'aiuto regista, dimmi tutto, starei lavorando, dimmi veloce. Faccio subito, per caso venendo stamattina ho visto che qui vicino c'è un camporomo. Sì, è la liattura di sto posto, non li guardare, abbiamo provato a cacciarli, niente, stazionano. Non li guardare. Ah, no, no, volevo dire che ho notato che sono avanzati qualcosa come 30 cornetti? Sì. Ecco, piuttosto che buttarli non sarebbe magari più giusto darli a loro. Senti, te li sputano in faccia, anzi te sputano pure a te, tu gli porti i cornetti, quelli te sputano. Ah, dici? Dico sì, se non ti dispiace adesso vado a finire il mio lavoro, stiamo preparando una scena. Eh, guarda, ti è caduta una... Ah, sono tempi difficili. Sì, anzietà.